Sì, eh? E poi tocca, e poi stiamo vicino. Cioè, troppo, non è attacchi di panico. Sì, più che sono attacchi di panico. Ha l'ansia, ha paura di stare da sola. Ma è una cosa morbosa. Eh beh, ma... Allora, 9 mattina, e anche le 7, sui del cellulare di Gabriele. Bravo, bravo, bravo! No, non è faro giù.